All'Università della Calabria si sono ritrovati in poco più di 150 studenti in occasione del Friday for Future, la manifestazione globale che si svolge oggi per sensibilizzare i governi sui cambiamenti climatici in atto. I manifestanti, dopo essersi ritrovati nel piazzale antistante all'ingresso dell'università, hanno sfilato lungo il ponte Petrobucci con slogan e striscioni. Anche qui, come il resto del mondo, organizziamo una manifestazione. La parte studentesca ha risposto bene per questa mobilitazione. Noi siamo dalla parte del futuro, del cambiamento e soprattutto dalla parte della difesa del nostro pianeta. Per questo motivo siamo per gridare soprattutto ai governi di tutto il mondo di impegnare le proprie risorse affinché si difenda questo nostro patrimonio che è quello della terra, della sua natura e di tutte le sue bellezze. Le manifestazioni di sensibilizzazione di oggi, lo ricordiamo, si svolgono in seguito ad una serie di iniziative e di appelli lanciati dalla giovane svedese Greta Thunberg. Greta, diciamo, è la nostra rappresentante in seno a quello che rappresenta questa battaglia, in particolar modo con la sua giovane età, quindi non potevamo che rispondere anche qui in Calabria da un luogo dove è frequentato dalle nuove generazioni. In particolar modo in Calabria, l'Università della Calabria, è il messaggio più bello proprio per questa giornata. Una mobilitazione che qualcuno la vede anche come una sorta di distrazione di massa rispetto ad altri problemi più tangibili e concreti. Penso che il problema vero che sarà anche del presente e del prossimo futuro sarà quello di difendere questo pianeta. Non abbiamo altre alternative. Per questo motivo penso che al primo posto bisogna interagire, bisogna parlare rispetto a quello che sono i problemi dell'inguinamento, della riconversione magari anche da parte delle energie rispetto a quello che sono anche le nuove missioni di Nuova Frontiera che bisogna mettere subito in campo perché, come dicevo prima, non abbiamo nessuna alternativa come genere umano o come popolazione di questo pianeta.